Marcello Messina dopo l'addio a uomini e donne si è presentato sul suo profilo Instagram, preciso anche seguitissimo, e ha parlato della sua fidanzata, perché sì, fidanzata è diventata. In un video appena pubblicato proprio nella giornata di ieri sulle sue stories del profilo ufficiale Instagram, dopo aver salutato con tanto affetto i suoi fan, ha ripetito che è fidanzato e che la fidanzata che ha già minato il studio a uomini e donne non è fantomatica, ma è reale, è assolutamente reale, e presto, quanto pare, la porterà a uomini e donne per farla conoscere a tutti, ma scopriamo insieme chi è questa fidanzata per cui Marcello Messina ha perso la testa tanto da lasciare il programma di uomini e donne. Marcello, oltre a fare una story Instagram, ha anche fatto un'intervista sul settimanale Uomini e Donne Magazine, dove ha rivelato dei dettagli sulla sua nuova fidanzata. Eccola qui, sul settimanale Uomini e Donne Magazine, potete anche vederla perché comunque la ritrae in alcune foto, si tratta di una ragazza che si chiama Viviana, ha i capelli scuri come abbiamo visto, gli occhi castani, e su Instagram è molto facile trovare il suo profilo perché lei stessa ha condiviso due giorni fa un video che la ritrae proprio con il cane di Marcello. Fa l'oculista, è di Salento ma vive a Torino. Appare come una ragazza spensierata e serena e devo dire la verità, è anche molto bella. Lui stesso ha raccontato a Uomini e Donne Magazine che condividono gran parte della loro vita insieme e racconta che la sua dolce metà è molto presente con lui e vive anche la vita quotidiana. Sente però comunque la mancanza di tutte le persone che erano presenti a Uomini e Donne e che ha conosciuto soprattutto dietro le quinte. Parla sempre della sua fidanzata e dice che gli ha colpito immediatamente la sua eleganza e il suo modo di sorridere. Tra di loro si è creata una bella energia e ovviamente non è scattato ancora il ti amo ma lui li ha confessato di orelli molto bene e già per Marcello questa è una cosa importante. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lascia un mio like e se ti va iscriviti al mio canale perché solo così non potrei perderti questo ma nessun altro prossimo video.